Colgo un eccesso di morbosità attorno a Zlatan Ibrahimovic. Cosa fa, dov'è gli spostamenti, quando rientra, se c'è col Cagliari, se c'è col Lempoli. Vorrei chiarire l'ovvio, non è un giocatore a rientro da infortunio Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic è un uomo della proprietà, è una figura al più alto livello di un club, quello della proprietà. La proprietà, nella norma del calcio, non sta appiccicata ai giocatori, allo staff, all'allenatore. La proprietà non ha la bacchetta magica, la proprietà non impone le mani. La proprietà dà le sue linee, sovrintende anche in momenti di difficoltà e delicati come questo, ma è la proprietà. Io credo che su Zlatan Ibrahimovic non ci sia stato un difetto di comunicazione da parte di Redbird. C'è una difficoltà a capire, metabolizzare e accettare il suo ruolo dall'esterno. Nel momento in cui si tiene aggiornato, si tiene informato, si tiene in raccordo con il vertice della proprietà e con il management del club, Zlatan Ibrahimovic sta facendo il suo lavoro. Credo che la morbosità con cui viene circondata la figura di Ibra possa essere degna di miglior causa, magari anche per altre figure, nel mare magno del calcio italiano. Ho letto pezzi che si concludono con la tesi «Eh, a Salerno c'era, però il Milan ha fatto 2-2», che c'entra la presenza in tribuna della proprietà con il risultato di campo. E questa è la difficoltà a capire. Per cui, meno morbosità, secondo me, e più sforzo di capire ruolo e figura. Ho letto il commento di Sebastiano Messina, grande giornalista, grande editorialista su Repubblica, sul decreto crescita. Sebastiano Messina dice, scrive, la D del Milan Furlani sostiene che senza decreto crescita ci sarà distruzione del calcio italiano. Normale, secondo Sebastiano Messina, per chi appartiene al mondo del pallone che fa gli sconti fiscali ai milionari. Errore. È la dimostrazione che anche i grandi giornalisti che seguono la politica appartengono allo strano mondo della politica che fa fatica a calarsi nella realtà quotidiana del calcio. Giorgio Furlani non guarda gli sconti fiscali ai milionari, guarda le agevolazioni fiscali ai club che senza il decreto crescita impoveriscono il prodotto perché sono costretti a non rinnovare i giocatori, a cedere i giocatori, perché sono costretti ad acquisire giocatori di minor blasone, di minor prestigio, di minor qualità, di minor lignaggio, e quindi impoverendo il prodotto e appesantendo il bilancio. Ma la politica è ancora, e il suo giornalismo, giornalismo non di proprietà della politica, ma il giornalismo che segue professionalmente la politica, usano ancora il termine milionari come si usava all'inizio degli anni 70, quando i milionari, Gianni Rivera, Gigi Riva, Sandro Mazzola, poi non hanno fatto vita da nababbi. E oggi è chiaro che ci sono cifre diverse, ma è la competitività globale che obbliga il calcio italiano a cercare di tenere botta. Ieri qualcuno su Twitter mi rispondeva «Ah, ma con gli stadi a pezzi tu adesso te la prendi con...» E se gli stadi sono a pezzi, la colpa di chi è? Di chi non fa una legge nazionale sugli stadi, di chi non capisce che rinnovare gli stadi sia il volano giusto per i diritti televisivi, sia il volano giusto per ospitare eventi, per tenere testa movimenti calcistici, che i grandi eventi europei e mondiali li hanno ospitati e infatti oggi hanno messo la freccia rispetto a noi. È di queste cose che non si accorge la politica e il giornalismo che segue, da una parte o dall'altra, con vari schieramenti anche lì, la politica si dimostra sullo stesso livello di eccellenza nel non capire e nel non mettersi nei panni. Normale. Andiamo avanti. Ho sentito le dichiarazioni Simone Inzaghi ieri dopo Genoa Inter 1-1. Simone Inzaghi, giustamente dal suo punto di vista, dice che aveva fatto un pareggio su un campo dove non è facile per nessuno, qui tutti hanno avuto difficoltà, tranne la Fiorentina che ha vinto e il Milan che ha vinto in modo rocambolesco. Non so se Simone Inzaghi per in modo rocambolesco si riferisse alla parata di Giroud nel finale oppure al gol di Pulisic. Mi permetto di ricordare in generale che di cose rocambolesche, che a Marassi in questa stagione ne sono successe diverse, ad esempio la mancata espulsione di Malinovski in Genoa Juventus e ad esempio il mancato fischio del fallo per la spinta a due mani di Bissek su Strootman in occasione del gol di Arnautovic. Quindi di cose rocambolesche ne sono successe più di una a Marassi. Poi è intervenuto a Cerbi nel post partita di Genoa Inter 1-1 dicendo che la Juventus ha speso 200 milioni un po' nervosetto dopo un pareggio con qualche assenza a Cerbi. Il buon a Cerbi che ho nel cuore Francesco è stato da noi nella stagione 2012-2013 ho un ottimo ricordo di lui. Però Francesco a Cerbi si avventura in discorsi strani dice che la Juventus ha speso 200 milioni per Vlaovic, Bremer e Chiesano in solo parametri zero. No a Cerbi. No caro Francesco. Anche se cash, credo, poi le formule del mercato italiano sono sempre un po' particolari e ricordarsene è persin difficile perché è più facile l'algebra multipla di grande livello anche se non sono stati versati credo dei cash per Frattesi la scorsa estate però Frattesi non è arrivato a parametro zero. Arnautovic non è arrivato a parametro zero. Sommer non è arrivato a parametro zero. Pavard non è arrivato a parametro zero. Quindi da questo punto di vista credo che la chiamo affettuosamente intemerata da parte di Francesco Ace come lo chiamavo nelle telecronache su temi strategici ed economici sia un po' il nervo scoperto di chi evidentemente anche a livello mentale il duello con la Juventus lo patisce. La Juventus Vlaovic, Bremer e Chiesa non li ha presi nella scorsa sessione di mercato. L'ultima sessione di mercato estiva ha visto l'Inter spendere nettamente molto di più della Juventus e credo che Francesco guardando i dati guardando le cifre guardando le operazioni non avrà difficoltà ad ammetterlo e a riconoscerlo. Volevo chiudere sui messaggi di cui sono stato subissato ieri per quanto riguarda la vicenda di Musa Yunus Musa che ieri ho definito come tantissimi altri colleghi perché la notizia è arrivata contemporaneamente su tanti profili Whatsapp ma naturalmente sono stato preso di mira soltanto io perché usa così fa comodo così e piace così a qualche aiatollà del nickname. Io dico semplicemente questo dico che Yunus Musa ha giocato il 13 dicembre quindi Yunus Musa fuori un mese è una roba astrusa bislacca e uso dei termini molto gentili molto agghindati gli stessi che ho usato per la notizia inventata da qualche profilo fake prima di Salerno di Ben Nasser che si era rotto la notizia inventata questa settimana su Pulisic prima di Milan Sassuolo che si era rotto cose false messe in giro ad hoc tanto per avvelenare i pozzi e avvelenare il clima Yunus Musa ha giocato il 13 di dicembre ieri era il 29 16 giorni in 16 giorni non si guarisce da una lesione probabilmente era un affaticamento che ha dato delle preoccupazioni che ha ritenuto necessaria e indispensabile un certo tipo di gestione immagino perché non lo so ma il 16 dicembre io ero a Padova al Milan Club Padova Rossonera ringrazio ancora e saluto ancora Matteo Franchin e tutti gli amici che mi hanno ospitato in maniera splendida insieme a Giovanni Galli quella sera e ho letto come tutti la notizia di Musa che per un affaticamento non avrebbe giocato Milan Monza non l'ho data io non faccio nessuna regia avvicinarsi alla vita professionale delle persone senza conoscerla e insinuando ogni minuto e ogni giorno cose rischia di essere alla lunga un po' rischioso io ho letto di Musa dell'affaticamento di Musa come tutti mentre ero a Padova ieri la notizia di Musa guarito è arrivata su tanti profili Whatsapp tant'è che sui social si possono trovare riscontro di tanti colleghi che l'hanno ricevuta guarito da cosa? certamente non da una lesione perché in 16 giorni non si guarisce da una lesione poi se il Milan ritiene per la miglior gestione del giocatore che nonostante le preoccupazioni per quello che ha avuto Musa affaticamento non lo so fate voi che siete scienziati luminari sia più prudente non portarlo subito in panchina con il sassuolo ma fargli fare degli allenamenti e così è se rientrerà come credo come tutto lascia presupporre il 7 gennaio a Empoli non sarà stato fuori un mese sarà stato fuori 16 giorni per tornare in gruppo non un mese 16 giorni non sono un mese i mesi sono fatti di 30 di 31 giorni o di 29 giorni come il mese di febbraio nell'anno di sesto che va a cominciare il 2024 e se rientrerà come credo contro le Empoli o dalla panchina o in campo dall'inizio dipenderà dalle scelte del mister di Stefano Pioli Musa sarà stato fuori 25 giorni che anche quelli non sono fuori un mese ma per tornare in gruppo sono stati 16 che non sono un mese quindi io dell'affaticamento non ho dato nessuna notizia nessuno l'ho appresa come tutti voi il 16 di dicembre e ieri come tutti gli altri colleghi che hanno ricevuto la notizia ho detto che era guarito quindi non c'è una mia reagia non c'è una mia perché accusare qualcuno di prendere per i fondelli il pubblico è una cosa molto grave che un giorno o l'altro dovrà anche essere hai visto mai provata non faccio né minacce né ritorsioni ma metto le cose a posto perché le cose finché si parla e si comunica fra persone per bene devono essere messe a posto se poi non si comunica e non si parla fra persone per bene quello è sempre un altro discorso ciao ragazzi ci vediamo ci sentiamo dopo la partita grazie a tutti